Un'altra settimana di lavoro intenso nelle gambe, Cristian, quanto migliora la tua condizione? Sicuramente ogni settimana che passa la condizione fisica migliora sempre di più, sono contento di come sto e spero di migliorare sempre di più. Quanto puoi dare a Livorno dal punto di vista fisico in termini di minutaggio? Questo non lo so, deve dire il mister, io mi faccio trovare pronto e poi il mister vedrà quanto farmi giocare. Però tu come ti senti? Li senti già ai 90 minuti o arriviamoci gradualmente? Non so se riuscirò già a fare 90 minuti, sicuramente mi servirà un po' più di tempo, però voglio arrivarci il prima possibile a farli. Che squadra hai ritrovato, che gruppo hai ritrovato Cristian? Un gruppo fantastico, siamo un gruppo forte, l'hanno dimostrato in questi tre mesi che non c'ero e stiamo puntando in alto e vogliamo continuare a farlo. Chiaro che ti aspetti una domanda di mercato, te ne faccio una sola, sui media e anche nazionali si parla del Sassuolo fortemente interessato a Capone. Ma sinceramente non so niente del mercato, sono concentrato al Pescara, la partita di domenica con Livorno e più avanti si vedrà, ma la mia testa è tutta per il Pescara. Quindi finirà la stagione qui? Non lo so, però penso di sì. L'ultima dove deve essere bravo il Pescara contro Livorno, Piloni in conferenza ha detto occhio a Diamanti. Sicuramente Diamanti è un grandissimo giocatore, lo sanno tutti, ma noi dobbiamo fare il nostro gioco come sempre, avere tranquillità nel possesso palla e poi appena abbiamo la possibilità di segnare dobbiamo farlo.